nonno vieni che ti presento ginello l'asinello occhialo devo fare la persona serio però non ha la scelta appena fuori pari d'acce non va che non mi raccomandati devo farla questa una sera mi arrabbio buona tra l'altro direi di coniglio nonno che sponda sera il mezzo da sedia non voglio dire più dai dai metto questo fa male pure il bicchiere muro non c'è dai muro tieni il bicchiere te lo lascio eh tieni e basta dai no basta quando è troppo è troppo eh miaoo dai facciamo allora vediamo di nuovo eh a me scelta me bene ma che devo fare devo ma ma riuscirei a fare il montaggio non so ma ma è più piccolo non in più ah è più piccolo in che senso è più piccolo così come volume è più piccolo così di grandezza no di grandezza no di età è vecchio no veramente ma come giovane c'è 8 8 milioni di anni 8 e mezzo coniglio di grandezza no non ti devi azzardare mettali sul tavolo che fa più fretta regalini e coniglietti abbiamo finito sai cosi come si può fare guarda come si fa cosi cosi si fa cosi si 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 Questo video è finito Ragazzi ve lo dico io Spero di sì Sai che cos'è finita? Sai che cos'è finita? La telecamera Sapete il Fire Mattes at Freddy's Questo orsacchiotto Vedete che rosso? Questo è Freddy E adesso guardate che cosa fa? No Basta Saluta e chiudiamo sto video L'abbiamo già finito Chiudiamo tutto faccio un'altra la prima non voleva 5 6 7 8 dai dammi subito hai vinto te questo video è finito ciao mettete un mi piace capo un capo puoi salutare Leo hai vinto papà fai il saluto finale tu vai ti chiudo no no ferma devo leggere 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 22 venite 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 occhialiiiiiii no no fermi fermi io fanno una cosa no no devi devi fare una statua fai la cavia fai la cavia ciao a tutti ragazzi io mi chiamo leonardo e benvenuti sul mio canale come se oggi giochiamo una challenge oggi giochiamo una challenge giochiamo una challenge a ginello l'asinello oh nono che ne pensi di questo asinello ginello pignatta proviamo è la prima volta Allora, praticamente, questo asinello, ginello, ginello, l'asinello, è una pignatta e dobbiamo fare uscire, diciamo, tutti i regalini che ci sono dentro. Praticamente bisogna cliccare questo bottoncino per far salire questa. La testa cioccolato, chiudi, la testa cioccolato, chiudi, la testa cioccolato, chiudi, la testa cioccolato, chiudi, la testa cioccolato. Basta cioccolato, basta, basta. Ah, questo stanotte ha un mal di pancia, ne ho mangiata tanto, no, eh? Basta! Non le ho mangiate. No, no, basta, le ho, basta, basta. Ah, le ho metti qua dentro, metti qua dentro, metti qua dentro, metti qua dentro. No, no, basta. Mi sento molto più forte. Basta.